Eccoci a un nuovo capitolo delle videoconsulenze. Vi ricordo ancora una volta il numero a cui inviarmi le vostre video domande. Non dimenticate mai la parola d'ordine. Questa è la legge. Buongiorno avvocato. Io vorrei avere un'informazione. Sono appena stata denunciata perché ho fatto una recensione nel allevamento di pastori tedeschi in cui ho preso i miei due pastori tedeschi perché ho scritto che mi hanno venduto un cane con malattie che so con certezza che comunque se non li vendono li uccidono perché l'allevatore me lo voleva sopprimere perché era malato e me ne voleva regalare un altro. Però vabbè io mi sono rifiutata. Sono andata avanti negli anni a curarlo con altre cose comunque però adesso sta bene. Dopo sei anni ho scritto questa recensione dove dico queste cose che sono successe. Ad oggi mi hanno denunciato perché secondo loro è diffamazione. Però io ho tutte le prove che ho acquistato il cane da loro e ho anche le prove che il cane è stato malato per anni e anni di epidestia. E secondo lei che cosa mi conviene fare? Io per non spendere soldi non andrei neanche avanti però io so con certezza che non sono cavolate. Cioè ho la ragione. Io ho anche le prove perché il cane l'ho preso da loro e loro dicono che non vendono cani con problemi sanitari ma non è assolutamente vero perché il mio Jake ha avuto dei problemi gravi per anni e anni e anni che fortunatamente adesso ha risolto. Però io sono andata avanti anni e anni a dirgli quelle pastiglie che probabilmente loro avrebbero risolto facendolo morire però per me no. E adesso pure la denuncia mi è arrivata. Lei cosa mi consiglia di fare? Come ho già chiarito in un precedente video la recensione negativa non è illegale anzi rientra nel diritto di espressione. Il punto è capire le parole che sono state dette. Se ti sei limitata a riportare i fatti per come avvenuti di cui però devi avere le prove allora non dovrai temere nulla. Difatti la legge sancisce il diritto di critica ricompreso nel diritto di espressione purché è manifestato con continenza ossia con espressioni moderate che non si risolvano in attacchi contro l'altrui moralità. Questo significa che mai come in questo caso contano le parole che hai scritto. Dire sono degli imbroglioni è diffamazione. Scrivere sono degli assassini di cani o comunque volevano far morire il cane è ugualmente diffamazione perché stai attribuendo un giudizio morale a queste persone senza peraltro che ci sia stata una sentenza a giudicarne la colpevolezza. Solo il giudice infatti può dire se una persona è responsabile o meno non già il cittadino. Quindi il fatto di anticipare quella che potrebbe essere una condanna del giudice quella per maltrattamento di animali ti rende responsabile del reato di diffamazione. Scrivere però che hai preso il cane malato che lo stesso si presentava malnutrito che aveva delle malattie sono fatti storici che nessuno potrà contestarti perché verosimilmente risulteranno in un certificato medico di un veterinario. Ti consiglio di andare a vedere un video che ho già pubblicato su questo canale in cui spiego appunto come pubblicare una recensione negativa senza essere denunciati. I principi che esprimo in quel video possono essere così riassunti. Se non vuoi essere denunciata per diffamazione assicurati innanzitutto di rappresentare solo i fatti. Assicurati di avere le prove dei fatti che dici di poterli cioè dimostrare in un eventuale giudizio qualora dovesse sopraggiungere una denuncia da parte dell'azienda. Non dare mai e sottolineo mai giudizi sulle persone, non usare oggettivi qualificativi anche se ritieni che i tuoi giudizi siano fondati e dimostrabili. Il fatto che una persona sia irresponsabile, un criminale, anche un mafioso non ti autorizza a dirlo. Ripeto, ad affermare una cosa del genere potrebbe essere solo un giudice. Anche quando esprimerai le tue critiche fallo con moderazione e con linguaggio pacato e con misura. Bene, è finito anche questo capitolo delle videoconsulenze. Ancora una volta vi indico il numero a cui mandarmi le vostre domande e non dimenticate mai, questa è la legge. Questa è la legge.